Una volta creato il modello cinematico, entriamo nella fase operativa relativa all'analisi cinematica dei meccanismi di collasso locale. In questa fase il modello è costituito da corpi rigidi generati automaticamente sulla base degli elementi costruttivi come muri, colonne e travi. Il peso proprio dei corpi rigidi è considerato applicato in un punto materiale coincidente con il baricentro del corpo, mentre i carichi dei solai vengono distribuiti agli elementi di contorno per mezzo di opportune linee di carico. Alle forze verticali di natura gravitazionale viene associata una massa sismica e le relative forze sismiche inerziali. L'analisi consiste nel calcolo del moltiplicatore delle forze inerziali che provoca il collasso, detto appunto moltiplicatore di collasso. Per definire un cinematismo occorre tracciare gli assi di rotazione e selezionare i corpi partecipanti. Il primo cinematismo a nostra disposizione è il ribaltamento semplice. Lo utilizziamo per definire il ribaltamento di una facciata con asse di rotazione alla base. Selezioniamo ora i corpi partecipanti al cinematismo. Per verificare la correttezza della modellazione è possibile visualizzare un'anteprima degli spostamenti. Ruotando la vista notiamo che le linee di carico dei solai seguono i corpi ribaltanti e sono quindi considerate correttamente nel calcolo del moltiplicatore di collasso. Questo calcolo avviene in modo interattivo sulla base degli spostamenti e delle varie forze in gioco. Il moltiplicatore di collasso calcolato può essere visualizzato nella finestra grafica, in particolare nella leggenda, oppure nelle proprietà del cinematismo. Dal moltiplicatore di collasso si ottiene l'accelerazione spettrale di attivazione del meccanismo, la quale può essere confrontata con la domanda relativa allo stato limite di danno o di salvaguardia della vita, per effettuare la verifica e ottenere la capacità in termini di PGA e il relativo indicatore di rischio sismico. La domanda in termini di accelerazione spettrale per il cinematismo è la massima tra quella relativa a un sistema rigido e quella relativa a un sistema deformabile. Per tener conto di quest'ultima, nel caso in cui il cinematismo non sia alla base dell'edificio ma ad una certa quota, occorre specificare manualmente l'altezza del baricentro delle linee di vincolo. In questo caso l'asse di rotazione è posto alla sommità del piano seminterrato, specificiamo quindi un'altezza pari a 3,5 m. Il cinematismo così definito deve essere perfezionato per tener conto di vari aspetti, tra cui l'eventuale buon grado di ammorzamento con le pareti ortogonali, il possibile arretramento della cerniera per effetto dello schiacciamento della muratura e l'azione esercitata dalle travi sui corpi partecipanti al meccanismo. Per tener conto del buon grado di ammorzamento con le pareti ortogonali, possiamo includere nei corpi partecipanti i cunei di distacco derivanti dal taglio delle pareti ortogonali. In base alla tipologia di muratura, alla presenza di aperture e al rilievo di eventuali flessurazioni, il cuneo di distacco può essere più o meno ampio, in genere è a favore di sicurezza considerare cunei non troppo estesi. Per tagliare i corpi delle pareti ortogonali utilizziamo lo strumento di taglio con polilinea. Selezioniamo i corpi da tagliare e definiamo un profilo di taglio considerando che molto probabilmente passerà per l'apertura in prossimità dello spigolo. Confermiamo quindi con il tasto destro. A questo punto aggiungiamo il cuneo di distacco all'insieme dei corpi partecipanti al meccanismo. Notiamo che il moltiplicatore di collasso aumenta leggermente. Ripetiamo l'operazione anche dall'altra parte, ma questa volta non andiamo ad intercettare le aperture dato che sono abbastanza distanti dallo spigolo. Aggiungiamo quindi il cuneo di distacco ai corpi partecipanti al meccanismo. Visualizziamo quindi un'anteprima dello spostamento per verificare la correttezza della modellazione. Notiamo inoltre che il moltiplicatore di collasso è passato da 0065 a 0088. Questo dimostra l'effetto stabilizzante dei cuni di distacco delle pareti ortogonali. L'arretramento della cerniera può essere specificato manualmente oppure calcolato sulla base del carico verticale totale e della resistenza a compressione del materiale. In questo caso specifichiamo una resistenza a compressione del materiale di 1.5 Nm² e scegliamo come polo di rotazione la prima opzione. L'arretramento della cerniera viene calcolato automaticamente. Lo confermiamo e notiamo che il moltiplicatore di collasso in questo caso è diminuito. Questo perché le forze stabilizzanti hanno un braccio minore quindi il momento stabilizzante è diminuito. Passiamo ora alla questione legata alle travi di displuvio. Come abbiamo visto i carichi distribuiti da solaio sono automaticamente considerati nell'analisi per mezzo delle linee di scarico. Ciò che deve essere definito manualmente è l'azione di scambio tra le travi e i corpi partecipanti al meccanismo. Per tener conto di queste azioni possiamo inserire delle forze agli estremi delle travi per mezzo di punti materiali. Una volta selezionati i punti materiali la forza può essere definita specificando le tre componenti x, y e z per il carico permanente e il carico variabile. Potremmo ottenere questi valori sulla base di alcune assunzioni e per mezzo di un calcolo manuale ma in questo caso abbiamo a disposizione i risultati dell'analisi statica svolta sul modello globale dell'edificio. Consultiamo quindi i risultati dell'analisi statica svolta sul modello atelario equivalente. In particolare consultiamo la combinazione sismica cioè la combinazione di carichi verticali da considerare in un'analisi di tipo sismico. Selezioniamo la trave di displuvio per leggere il suo ID. Si tratta dell'asta 534. A questo punto selezioniamo il nodo all'estremo della trave e consultiamo la finestra relativa all'equilibrio del nodo. Qui possiamo leggere le forze e i momenti scambiati dalle aste connesse al nodo selezionato. In particolare notiamo che l'asta 534 trasmette al nodo sia delle spinte orizzontali che un carico verticale di circa 68 kN. Le spinte orizzontali sono dovute alla particolare modellazione del tetto che però è supportato da capriate e quindi sappiamo essere non spingente. Scegliamo quindi di ignorare le spinte orizzontali e ci concentriamo sul carico verticale. Ripetiamo questa operazione per tutte le altre travi e torniamo alla scheda dei cinematismi per inserire le forze nei punti materiali. Una volta inserite queste forze che, essendo dirette verso il basso, hanno un effetto stabilizzante, notiamo che invece il moltiplicatore di collasso è diminuito. Questo è dovuto al fatto che ai carichi inseriti corrisponde massa sismica e la relativa forza inerziale ha un effetto ribaltante. Con questo si conclude la modellazione di questo cinematismo. Proseguiamo l'analisi cinematica definendo altri cinematismi di ribaltamento per le altre facciate dell'edificio. Per la facciata sud abbiamo modellato il ribaltamento dell'ultimo piano, degli ultimi due piani e dell'intera parete. Notiamo che è proprio quest'ultimo cinematismo a individuare la situazione più gravosa in quanto fornisce l'indicatore di rischio sismico minore. Abbiamo poi modellato il ribaltamento del cantonale, anch'esso riconducibile al meccanismo di ribaltamento semplice. Per questo meccanismo il moltiplicatore di collasso è più elevato. Infatti è il primo meccanismo che soddisfa la verifica come evidenziato dalla leggenda e dal simbolo del cinematismo. Oltre al ribaltamento semplice abbiamo a disposizione altri tipi di cinematismo. Proviamo a modellare la flessione di una parete vincolata ai bordi. In questo caso dobbiamo definire tre assi. Il primo è la cerniera alla base del cinematismo che definiamo specificando il punto iniziale e il punto finale. Il secondo asse è la cerniera intermedia che dovendo essere parallela alla prima viene definita specificando un punto sul profilo interno della parete. Il terzo asse è in realtà un carrello e rappresenta il luogo dei punti che sono vincolati rispetto allo spostamento orizzontale ma sono liberi di traslare in verticale. Anche quest'asse lo individuiamo specificando un punto. Nel selezionare i corpi partecipanti al meccanismo dobbiamo distinguere tra quelli che ruotano intorno alla cerniera A e quelli che ruotano intorno alla cerniera B. Con un ulteriore clic su un corpo di tipo A lo definiamo di tipo B. Visualizziamo un'anteprima degli spostamenti per essere sicuri che la modellazione sia stata effettuata correttamente. Anche in questo caso è possibile definire un arretramento dell'asse sia per la prima che per la seconda cerniera. Lo facciamo sfruttando il metodo descritto in precedenza. Una volta completata la definizione del cinematismo notiamo che il moltiplicatore di collasso è piuttosto elevato e anche in questo caso la verifica è soddisfatta. Nella scheda cinematismi è possibile visualizzare in un histogramma gli indicatori di rischio sismico per ogni cinematismo e individuare subito qual è il cinematismo nella situazione più gravosa. In questo caso si tratta del cinematismo numero 4 relativo al ribaltamento dell'intera facciata sud. A questo punto supponiamo di aver modellato tutti i cinematismi e completato quindi l'analisi cinematica. Per avere un resoconto di tutta la valutazione della sicurezza dell'edificio, comprensiva anche delle analisi relative al comportamento globale, clicchiamo su indicatori di rischio. Questo documento fornisce per ogni stato limite considerato il minimo indicatore di rischio sismico in termini di PGA. In questo caso, trattandosi di un edificio esistente in classe d'uso 3, abbiamo considerato il solo stato limite di salvaguardia della vita. La tabella sottostante fornisce una gerarchia dei comportamenti strutturali, chiedendo quali sono i comportamenti per cui la struttura è più vulnerabile. Notiamo che la vulnerabilità maggiore è relativa proprio ai cinematismi. Seguono i comportamenti valutati per mezzo di analisi globale relativi a capacità limite in fondazione, resistenza fuori piano e resistenza nel piano. Per questi tre comportamenti, l'indicatore di rischio sismico è pari al minimo indicatore ottenuto dalle varie curve pushover. Per concludere, possiamo dire che eventuali interventi di rinforzo sull'edificio dovranno innanzitutto mettere in sicurezza i possibili meccanismi di collasso locale e successivamente si potrà intervenire sulla resistenza degli elementi murari per migliorare il comportamento globale.